Allora, questo metodo ha permesso alla mia bambina, che conosceva comunque già le lettere, di concretizzare le lettere nella parola, cioè lei è tornata a casa riuscendo ad associare le lettere e a comporre le parole e conoscere il significato. In pochissimo tempo, senza nemmeno stare le dite, è venuta da me col foglietto, mi ha scritto, mamma, vedi, ho scritto nave, dimmi una parola che la scrivo. Ed è stato fatto tutto ma in lampo, in batter d'occhio. Quindi anche per chi magari già sa qualcosa, comunque l'ha aiutata a progredire in nulla, giocando, divertendosi e riuscendo a concretizzare le cose, perché vedeva sempre queste lettere sparse, conosceva gli iniziali delle parole, ma la parola in sé, composta con la conoscenza delle lettere che la compongono e del significato, l'ha attuata adesso, con questo metodo, in questo percorso, sia pur breve, cioè nel lampo di pochi giorni, è riuscita a concretizzare. Ed è stata una cosa molto bella per me. Bella perché poi si è divertita, ha giocato, ha raccontato, questo è vero, perché raccontano poi quello che ascoltano, le loro storie, come si sono divertiti con le maestre, con la fantasia. È stato tutto molto bello. È stato molto bello.